Gianmarco Tamberi salto in alto Le emozioni in gara si gestiscono se hai fatto il tuo dovere durante tutto l'anno Il ragazzo dietro il personaggio, dietro l'atleta, è un ragazzo molto serio in quello che fa che si dedica al 100% per raggiungere i propri risultati ma allo stesso tempo totalmente stravagante, che si diverte, che gli piace vivere Penso un binomio enorme, un po' come la mia beta barba la parte seria che fa tutto in una maniera maniacale per raggiungere i massimi livelli possibili e dall'altra parte un pazzo scatenato